bene 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 e allora ragazzi ho trovato queste due che cosa sono ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video cosa sono queste sono uguali sono da 10,8 volt si sono delle batterie batterie di computer portati e sono per acer aspire one che tra l'altro è un computerino portatile molto carino anche potente ce l'ho in dotazione da almeno bu sette anni otto anni e l'utilizzo connesso con la macchina cnc e niente ragazzi io qualche annetto fa circa uno due ho preso tramite un mio fornitore un lotto di queste batterie lotto che aveva circa una sessantina di queste batterie tutte uguali ripeto erano batterie ovviamente usate batterie buttate inutilizzate da smaltire io le ho acquistate perché mi avevo necessità di recuperare le celle interne e oggi avendole trovate vi voglio mostrare se riesco a ricordarmi come si aprivano vi mostro cosa c'è dentro e come si recuperano delle celle 18650 da un pacco batterie di vecchi computer e allora in laboratorio in un paio d'anni abbiamo smaltito cioè smontato all'incirca 7 8 mila batterie non solo queste ma anche quelle più grandi sulla nostra pagina sulla pagina facebook con i vari anni se va indietro troverai tantissime foto dei lotti di batterie che andavamo a smontare e poi recuperare queste celle e allora questo abbiamo detto che un pacco batterie aspetta che l'ho rotto e allora 10.8 volt da 2200 mAh e allora se mi attengo alle informazioni riportate qui monta delle celle da 2002 perché come vedi le dimensioni sono piccoline parallele non ce ne può essere e dovrebbero essere una due tre tre dovrebbero essere una da qui a tre celle 18650 in serie perciò 12,6 ragazzi alla fine però avrà sicuramente uno stabilizzatore e anche questa è da 10.8 volt 2002 23 watt ora e allora per smontare un pacco batterie intanto fate attenzione perché sono tutti fatti in un materiale molto duro plasticatura c'è il rischio che vi fate anche male però piano piano poi prendendoci mano con un po di forza bruta io ora mi sono arrugginito perché ha tanto che non ne apro più ma in quelle settimane ragazzi mai ci lavoro quindi tali di batterie poi ovviamente tutto che poi facevo anche un lavoro per la comunità perché perché io prendevo i pacchi batterie da buttare e li suddividevo perché quando io ora smonto tu vedrai che andrò a suddividere plastica da metalli da carta e portandoli all'isola ecologica era tutto un lavoro diciamo fatto in più ecco in positivo utilizzeremo tutto e andremo a leggere le tensioni vedi plastica 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 e tutto questo va nella plastica questo è il pacco batterie di un computer portatile tre celle 18 6 50 in serie negativo positivo qua c'è la prima connessione in serie negativo di questa positivo negativo di questa è positivo che qui monta delle sono delle saranno delle sanio esatto sono delle sanio da 2.200 mAh questo è il bms eccolo qui con annesso connettore questi neri queste macchie le vedi perfetto queste sono i sensori di temperatura uno è qui e uno è qui come vedi si proteggono tantissimo questi se captano una sovratemperatura un surriscaldamento delle celle staccano il circuito e dovrebbero proteggere il tutto però i portatili i ragazzi hanno il brutto vizio di surriscaldare e non poco e andiamo a misurare i voltaggi vediamo come posso mettere in favore di camera spostiamo tutto ok e allora qui dovremmo avere dato che sono tre sono 12,6 volt vediamo se vero lol 8,4 369 ragazzi questo pacco batterie mi spiace dirlo ma sembra funzionante o meglio queste celle sembrano buone batteria non questa ma anche quelle in passato vi posso dire che questo lotto questo lotto che ora comunque smembreremo tutto e vado a recuperarmi queste celle perché ragazzi queste sono celle funzionanti alla perfezione queste io le avevo lasciate però questo non lo smonto ma non per qualcosa perché so che è buona so che è funzionante per il mio computerino personale lo sfrutto appunto se eventualmente il mio acera spire one la sua batteria che monta ma rompe eventualmente ciò le parti di ricambio però questo ormai l'ho aperto vi faccio vedere come portare a compimento il tutto e allora prendi le celle e fai piano piano così a strappare ok e hai separato le prime due celle perciò il circuito in questo momento è aperto vai a rompere tutto tanto ormai non ti serve più a nulla elimina 1 elimina 2 elimina questo eliminiamo anche questo e come visto le celle hanno tensioni differenti questo vuol dire cosa ragazzi vuol dire che il problema in questo pacco batterie e non solo in questo in tutta la serie spire one era colpa dicevamo delle bms se si rompevano perché le celle se io ora queste le vado a mettere a caricare io ti farò vedere che prenderanno la carica e come vita utile hanno un ottimo ciclo di vita rimanente ecco tolto questo tolto questo mi sono conquistato tre celle nuove che ci posso fare un nuovo pacco batterie e allora andiamo a misurare di nuovo i voltaggi sono delle sanio sono 265 3 e 2 e 73 perfetto questo lo metto da parte perché lo conserviamo ragazzi per questo video è tutto mi raccomando iscriviti al canale e niente un like un commento fammi sapere tu se recuperi celle 18 650 ricondizionate quante ne hai se vuoi mandami qualche foto del laboratorio dove fai esperimenti che prossimamente li raccoglierò tutti in un video dove vi saluterò e inserirò anche i vostri progetti se vuoi mandami anche dei progetti e i vostri laboratori ciao ragazzi al prossimo video ciao